Ciao a tutti. Il narcisista non chiude mai del tutto le sue relazioni, ma lascia sempre uno spiraglio aperto. Così quando rimane senza rifornimento narcisistico, inizia a passare in rassegna le ex con i tipici cucù. E dove trova la porta aperta attuerà la manipolazione, dando il via alla fase dell'off bombing, alla fase della svalutazione e alla fase dello scarto. Ovvero il solito ritornello. Ma supponiamo che il narciso non riesca a trovare una sostituta per la scorta. Allora in questo caso che cosa accade? Accade che il narcisista perde il lume della ragione e assume questo tipo di comportamento assolutamente deviante. Inizierà a diffamare le sue ex con familiari e amici. Andrà alla ricerca di donne di facili costumi. Si darà ai film a luci rosse. Correrà sotto le gonne della mamma o comunque del genitore di attaccamento. Farà abuso di alcol o di sostanze stupefacenti. Si abbufferà di cibo. Inizierà a giocare con i videogame. Inizierà a frequentare qualsiasi persona gli capiti a tiro. Cercherà in tutti i modi di ricontattare le vecchie fiamme. Potrebbe partire per un viaggio alla ricerca di nuove prede. Inizierà ad attuare lo stalking. Andrà alla ricerca di qualcuno tramite i siti di incontri. Troverà mille scuse per messaggiare con te, per chiamarti e per uscire in tua compagnia. Farà di tutto per rovinare l'esistenza della sua ex partner. farà richiesta per avere l'affidamento esclusivo dei figli. Proverà a distruggerti in ambito lavorativo. Tenterà di danneggiarti sul piano economico. Metterà in atto anche vere e proprie violenze fisiche pur di farti tornare con lui. Sfocerà in deliri psicotici. Avrà un crollo narcisistico che lo porterà al suicidio o a diventare psicopatico. Il narciso nel momento in cui rimane senza rifornimento narcisistico viene pervaso da una sorta di stato psicotico che può essere interconnesso al tipico pensiero magico, esattamente come i bambini, che pensano che tutto può accadere come per magia. Un'altra realtà che vive il narcisista è percepirsi immortale e molte volte invisibile agli occhi di coloro che secondo lui desiderano fargli del male. Queste sono delle vere e proprie fantasie infantili. Ricorrere a tale fantasia infantile significa usufruire di una fonte di approvvigionamento alternativa. In mancanza di tale scorta alternativa il narciso andrebbe verso una profonda autodistruzione, con conseguenze pazzesche, in grado di farlo sentire completamente annientato, lacerato e dissolto, il tutto accompagnato da una sensazione talmente angosciante da provocargli un senso di morte fisica e interiore. Il narcisista senza il suo rifornimento narcisistico si può benissimo paragonare ad un tossico dipendente senza la sua sostanza stupefacente. Rendersi conto di quanto il narciso sia disturbato mentalmente può sicuramente turbare profondamente, tanto da percepire un'intensa nostalgia al pensiero di essersi relazionati con una persona che in realtà è stata solamente una pura illusione. L'amore che non hai mai ricevuto, le giornate felici che pensavi di avere trascorso e quell'anima che non hai potuto salvare. Ma puoi salvare te stessa, poiché c'è un momento per sorridere, un momento per soffrire, un momento per piangere e un momento per guarire. E tu che cosa ne pensi del profilo deviante del narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.